ciao a tutti ragazzi sono l'orex make a benvenuti in questo nuovo video ho risanato stumble guys perchè mi andavo e ho shoppato tutto 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 lo stumble pass e oggi lo spacchettiremo insieme pronti? ho soltanto riscattato le gemme e poi basta pronti? partiamo da zero iniziamo con una comune superiore andiamo a riscattare la skin con la bella bella del pupazzo di neve e poi andiamo a provarle in game ah roberto carlos evviva ok io devo trovare assolutamente il chicken se lo trovo in questo video questo è il mio video preferito no perchè mi dai panda ma come mi dai panda mi puoi dare anche i polli vabbè le moto è comune superiore il polletto il polletto il chicken no quello marrone non mi serve perchè dai quello marrone? no 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 darmi la rara ma no superiore dove il polletto l'ho visto forse l'ho visto forse no 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 epica epica gettoni 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 come un neve superiore il polletto non me lo dà il chicken? che schifo che schifo il mio quel gallo è così bellino è così bello non è che è bello in realtà ragazzi a tirla tutta non è che è molto bello però mi serve quel pollo schifoso ok ce n'è ancora tanta di strada da fare perciò andiamo in game ho comunque scioppato anche questo schifo sono contento che mi hanno ascoltato hanno levato i polli non so se hanno ascoltato a me vi dico la verità ok mettiamo l'emoji della cacchina e andiamo in game let's go chissà se qualcuno scommetto che qualcuno almeno uno avrà questa skin in partita se non ce l'ha neanche uno ho perso e basta anche se non ho perso niente non vinco niente un test c'è una sfida una sfida baby una sfida che non si vince niente lo divano tutti quel gallo ovviamente l'ho persa oh 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 dai una volta l'ho fatto non una volta anche più volte no no non sono caduto bene vabbè un ritorno schiacciante su stumbleguis oh my god guys che pro che trick che faccio tutti sto pollo ce li hanno tolti mi parelte li hanno dati tutti quanti a 5 gemme comunque non è un tacchino non è un pollo il pollo è quello che no no mi hanno ascoltato hanno tolti i tacchini dalle mappe perché hanno capito che rompevano troppo ed erano ingombranti e brutti no non ho messo animazione perché l'ho installato poi ho riconnesso il mio account e però mi ha dato ho cambiato solo l'emoticon non mi sono limitata a cambiare passi oppure a cambiare altro voglio che mi esca super slide ovvero sono ancora bravo il laser tracer comunque stavo dicendo vorrei che esca super slide perché beh comunque ragazzi questa è la prima partita di riscaldamento poi c'è la sigla ovviamente la mia sigla no no ho premuto il puglio no ho premuto quello apposto di questo non ci credo vabbè prima di continuare sigla continuiamo ragazzi continuiamo 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 eravamo rimasti qui passi ed emot come uno superiore non c'è il gallo ci sta il gallo il pollo il chicken basta il chicken il chicken no ma è però cioè dico io però le altre rare ci stanno sempre perché quel pollo è così raro perché che cosa di così speciale ok l'ho visto l'ho visto attenzione l'ho visto anche più di una volta ma non ci credo ma cioè se mi davano la leggendaria di lui mi arrabbiavo ma che sopra sono arrivato boh non ci stanno i numeri ci sta 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 ovviamente ovviamente se non l'ho in comune vediamo quanto manca e non manca boh boh gettoni altra rara forse l'ho visto no non l'ho visto ho visto quello nero poi altre skin bianche poi cioè vedi che li ho uniti e però appare qua appare qua schifo ok forse l'ho visto ci sta eccolo l'ho visto e mi da le altre rare giusto no niente i contadini qua c'è o non c'è c'è o non c'è c'è o non c'è non c'è la mia skin iconica per favore ok fattiamo let's snow ok le ultime ruote tentiamo il tutto e per tutto sto tentando il tutto e per tutto con le ultime skin perché faccio così quando rara no ho l'ultima possibilità per trovare la gallo quel gallo quel gallo bellissimo bellissimo com'è bello quel gallo erico superiore ma qua non c'era l'emoto speciale oddio non me ne ero accorto no ecco quando è non ci credo non ci hanno dato più le moto special non ci hanno dato il pugno vabbè io riscatto questa questa ed ecco le ultime due prendo prima ecco no non lo trovo non lo trovo ho perso tutto non lo trovo fallito fallo fallo jacked rufa rudolf rudolf l'arena più bella di tutte buon natale rudolf auguri si presto auguri ho qualche giro epico per per dare un'ora al natale non ci credo è una seconda volta di fila legendaria un simul giro epico visto che è natale siamo tutti più buoni vi dedico altri 5 giri poi basta no way ter 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 ma vai che esce la speciale così a caso non penso proprio guarda si esce nell'ultimo giro si conclude proprio in bellezza babbo natale babbo babbo natale con i muscoli vabbè l'ultimo l'ultimo della vita è bello concludere con uno concludiamo con la volpe no la volpe di kekkox ma mi ero gratis no faccio una partita con jagged rubor aspetta 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 emote e i capelli è questa l'emote speciale hanno aggiunto una nuova che fa di figo sta banana che fa di figo è un emote special non ci credo che cos'è che cos'è una nuova speciale emote è un emote speciale è la nuova emote speciale quindi ma funziona come emote speciale oppure è soltanto un emote premium no è special è special è special è special no era da controllare se era se era soltanto tu fai special soltanto su quelle del passo premium no 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 oddio questa è la skin questa è la nuova emote la nuova emote speciale della banana e che cosa fa questa banana cioè non hanno let's non hanno rudolf no volevo provare a farlo vabbè che fa che fa oddio lancia le banane che figo che figo è che figo che figo è ma io adesso li vado a trollare ma sti dizzi a sti dizzi a sti dizzi buffoni aspetta aspetta la banana ho butto le banane si no vabbè no no vabbè è troppo bella questa nuova emote speciale finalmente mentica i pugni i gas no ma questa potrebbe essere utile nelle mappe dell'eliminazione potrebbe essere veramente un emote rotta vi vediamo no io non ho messo il nuovo balletto vabbè dopo però ho anche il nuovo balletto ed era una fake news la rimozione di blockdash era un gruppo di scemi che diceva 0.40 di blockdash non è vero è fake è una fake l'ho letto in un post ma era fake evidentemente ciao stambul o forse hanno cambiato idea ma forse con la banana puoi fare dei salvataggi mega allucinanti magari in bot bash no in bot bash per esempio spingora non lo so non lo so dove starla bene magari ma ti puoi suicidare con no ho premuto l'abbraccio vabbè adesso sono le moto speciali però io questo il tengo mi avviso sono 4 moto speciali 4 slot per favore io vorrei che aggiungete due moto speciali però aumentate anche gli slot delle motte quando dovreste aumentare gli slot delle motte la la valente possiamo provare questa bananita sono curiosissimo ma io pensavo che non c'era le moto speciali invece c'è proprio no 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 dove l'ho lanciata oh e qua è difficile per usarla è come una pistola devi cercare di colpirli se no non ottieni niente no la bananina la bananina la bananina ma quando esce lo scheletro col cappello io ho visto ho visto che c'era anche dai video oddio la bananina sto negando no vabbè è troppo bella questa memote però non la puoi usare solo da lontano è una memote che si usa la prima memote che si usa da lontano sì che sto fatto sì che sto fatto è caduto Nabbo ti sei glitchato no 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 che vuoi che spingi tacchino brutto e puzzolente ok adesso ti distruggo con la bananata con la bananata ti lancio una bananata non ti convi no sì è morto vinco senza usare la banana però vinco sempre mkc la rexity mkc tornato più forte di prima su stumle quiz nella prestazione volta se lasciate tanti like vi porto anche il video di minecraft animazione la nuovissima perché hanno messo il boot shake davanti al the worm anche i passi due metri passi i passi vediamo un po sono più belli questi o questi questi dai bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto dall'orix make è tutto noi ci vediamo con un prossimo video ciao